Eccoci qui come state ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like qui sotto e di scrivervi qui se lo avete ancora fatto, attivate la campanella. Attenzione perché è vicina all'operazione Salemakers Roma-Ebram-Milan. Siamo in fase di definizione, la cosa che stupisce, l'operazione può essere più o meno condivisibile, vi siete già espressi, esprimetevi ancora mi raccomando. La cosa che stupisce personalmente è che addirittura il conguaglio è intorno ai 10 milioni di euro, cioè il Milan da Salemakers aggiunge 10 milioni cash per arrivare a Ebram, mi sembra sinceramente troppo. Già ero scettico sulla possibilità di fare uno scambio con un piccolo conguaglio da 2-3 milioni, se come pare è un'aggiunta da 10, sinceramente mi sembra troppo per un giocatore che comunque in questo momento ha un enorme punto di domanda dal punto di vista fisico. Viene bellamente ignorata la richiesta di Fonseca di trattenere il giocatore belga, perché una cosa ha detto, ne ha dette due, entrambe non sono state ascoltate, e si va su questo scambio mettendo 10 milioni su Ebram. Anche qui è una cosa che volendo potevi fare un mese fa, Ebram sarebbe già integrato. 10 milioni più Salemakers? Boh, mi sembra sinceramente tanto, però ormai non ci sono più particolari dubbi. Ebram sta per diventare un giocatore del Milan, in attacco, come sostituto alternativa prima di Morata, mentre Salemakers sta per lasciare i colori rossoneri destinato appunto alla Roma, più conguaglio da 10. Ditemi che ne pensate, sono un po' sballottato tra queste cifre che sinceramente mi stupiscono. In ogni caso, la Roma già un mese fa a luglio aveva chiesto Salemakers, si poteva fare un mese fa e non negli ultimissimi giorni, saremmo un po' più consolidata come squadra. Però rimango scettico, commentate, scatenatevi con civiltà e con rispetto, lasciate un bel like, iscrivetevi qui numerosi e attivate la campanella. A fare ai dettagli, Salemakers Roma, Milan Ebram, 10 milioni verso Roma.